Buongiorno a tutti, buon lunedì 17 ottobre, ritorna Next, siamo qui pronti per andare a scoprire assieme all'inizio di questa settimana quali sono tutte quante le novità di questo imminente, imminente arrivo dei prossimi mesi. Sta arrivando il look a Comics and Games, quindi ci sono un sacco di nuove uscite. E intanto un salutone a tutti, un salutone all'Enders che lo vedo scrivere qua in chat. Buongiorno anche a te, recupero dall'inizio così vi saluto tutti. Buongiorno Tania, buongiorno Melx, buongiorno Remo e buona giornata anche a lei. Buongiorno Bacchemono, il Dungeon Store di Savona, Fabio, Lali Chichi, Alex, Sasha, buongiorno. E ovviamente mi sono dimenticata di rifare l'abbonamento, mannaggia, alla pubblicità. Perché vi ricordo che se vi abbonate, e lo potete fare gratuitamente con un account Amazon Prime, vi potete appunto abbonare al canale e non solo sostenerci, non solo riscattare un mese di abbonamento VIP, ad esempio su DungeonDice.it, piuttosto che riscattarvi codici sconto, riscattarvi spedizioni gratuite, ma anche vi saltate la pubblicità qua su Twitch. Quindi questo lo consente, lo permette, il buon Jeff che salutiamo. Quindi, provo ad entrare dal PC da lavoro se mi ricordo e lo appasto, perché niente, da cellulare continuo a non poterlo fare, e ogni tanto fa questo scherzo. A me tipo non lo fa, io da cellulare riesco a farlo tranquillamente, ma so che alcuni hanno problemi. Probabilmente un problema di aggiornamenti, di versione. Non lo so. Buongiorno Mr. Simo, buongiorno anche a lei che almeno una mezz'oretta di novità la vede anche il nostro buon Mr. Simo, quindi non perdiamo tempo, non perdiamo tempo perché ci sono un sacco di annunci, ci sono stati un sacco di novità. Ovviamente sulla scia di Essen adesso stanno cicciando fuori magari alcuni piccoli annunci di cose che magari a Essen già sono state mostrate, ma diciamo nelle stanze quelle un pochino chiuse al pubblico. Perché chiaramente non tutti, ma diciamo gli editori più grandi magari hanno a disposizione delle piccole lounge, dei piccoli angoli, dei piccoli pannelli divisori che vanno magari a ritagliare una piccola parte per delle piccole press room, oltre alla press room quella diciamo grande principale, quella aperta a tutti quanti coloro che sono lì per lavoro possono entrare, possono andare a curiosare quindi le novità, vederle setappate sui tavoli e quindi magari poter fare delle foto comodamente magari ai giochi piuttosto che andare a tastare con mano la qualità di determinati componenti. Alcuni editori come vi dicevo hanno, sfruttano anche la fiera magari per iniziare a far vedere delle anticipazioni magari a dei partner o magari anche a chi come noi può recarsi in fiera munito di pass stampa e così iniziare a narrare un po'. E proprio di alcuni di questi annunci ne parleremo questo oggi. Buongiorno anche a Elio, buongiorno a lei, buongiorno visto anche passare un lucchino se non mi sbaglio, eccoti qua, buon next a tutti quanti, buon lavoro anche a te. Non c'è il Michele Matto che ha detto il buongior next quest'oggi eh, ci potremmo preoccupare o magari anche un pochino offendere. Buongiorno anche a Fabio897 e Sasha, si è ricordata la password perché è riuscita a rinnovare l'abbonamento, grazie mille. E grazie Remo, grazie mille a te per aver apprezzato sia Legend Riders che Flamecraft, sì sono due titoli di cui abbiamo parlato anche a lungo nelle scorse puntate di next che sono arrivate. E buongiorno anche a Mattia Salo con il suo primo messaggio in chat, buongiorno a te Mattia, grazie mille per essere qua, grazie mille per esserti collegato, benvenuto su DungeonDiceTV, se questa come immagino sia magari la prima live che segui o comunque la prima volta che hai voluto scriverci, mi raccomando lascia un follow perché qua su DungeonDiceTV tutti i giorni alle 13 qualcuno di noi vi terrà compagnia dal lunedì al venerdì per parlarvi di giochi da tavolo, giochi di ruolo, classifiche, curiosità, uno sguardo al mondo dell'arte tutti i martedì con Valentina alle 13 con la nostra Giulia Ressa, il mercoledì con Silvia ci saranno per l'appunto le classifiche dei giochi da tavolo, libro game, giochi di ruolo più venduti della settimana, tutte quante le curiosità dal mondo dei giochi con la nostra Giulia ogni giovedì e il venerdì a rotazione, keep up, questo venerdì purtroppo per voi vi tocco io, partiremo da un argomento molto caldo, ovvero Rings of Power, il signore degli anelli, gli anelli del potere, che questo venerdì si è concluso, a venerdì ne parleremo insieme per poi andarci a collegare ad argomenti che sui quali anch'io magari mi sento un pochino più ferrato e quindi come sempre si parlerà di giochi. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a lei o bokemono, ciao Mickey Bra, ciao, buongiorno, buongiorno, grazie mille a tutti quanti per essere qua. Quindi come dicevo un sacco di annunci, un sacco di novità, ma quest'oggi passiamo da un annuncio che in realtà mi avete girato voi perché ci sono persone che ancora più di me vanno a scandagliare le parti più remote, più dark, più i vicoli più pericolosi del web per andare a cercare delle informazioni e in un subreddit è saltata fuori questa persona che a quanto pare già aveva avuto dei buoni leak, diciamo, nelle stagioni precedenti perché hanno scoperto qualcosa relativo a Disney. Ora non so se Disney, nonostante tutte le NDA che faccia firmare qualche leak, se lo lascia sempre scappare, di proposito o non di proposito, chi lo sa, fatto sta che questa persona che già in passato aveva avuto delle dritte, aveva rivelato delle cose che poi si sono rivelate veritiere, nuovamente ha fatto delle rivelazioni che andiamo a vedere assieme, vediamo di quale gioco si parla spostandoci sulla schermata secondaria. E su DungeonDice.it giochi da tavolo, giochi di ruolo e accessori per voi! Ed eccoci qua! Intanto un thank you next, prego Mr. Simo, figuriamoci, spostiamoci, spostiamoci e andiamo a capire di che cosa si sta parlando, perché si sta parlando di Disney, sì, ma nel brand Disney Villenous. Una volta spione si chiamava, adesso uno spoileratore, ma più che spoileratore, diciamo, uno spoiler è qualcosa che ti va a rovinare, diciamo, no, la... Tu spoil è proprio quello, no, andarti a rovinare magari il piacere di scoprire tu da solo come finisce una certa cosa, cosa va a capitare in un certo momento. Il leak è più una notizia rilasciata prima del tempo. Poi ci sono leak e leak, per carità abbiamo visto anche adesso nell'era dell'MCU effettivamente magari alcuni leak che vengono fatti sono dei leak iper mega spoilerosi e quelli li odio. Magari altri leak che invece, come questo di cui vi parlerò, semplicemente vanno ad anticipare, a mettere anche un po' di curiosità, perché poi in realtà non sappiamo se sia vero oppure no, non lo potremo scoprire. Buongiorno Marco Dissa, buongiorno, ben arrivato. Non sappiamo fondamentalmente se realmente sarà vero ciò di cui vi parlerò, ma Disney Villainous, come sapete, sono già uscite un sacco di scatole, ne sono già uscite cinque, oltre alla scatola base. In italiano per ora ne sono arrivate solo quattro. Bigger and Better non sappiamo ancora, almeno io non so, di date di arrivo. Buongiorno, next anche a lei, Board Game. Buongiorno, la tua pizza è in ritardo, vabbè, l'importante è nutrirsi e mangiare. Buongiorno anche alla Likiki, che leggo, la vedo taggata da qualche parte, ma mi son perso probabilmente il tuo arrivo. Ciao Laura. Spero che vi presso la quinta espansione, ma in realtà questo leak parla già di una sesta espansione, di cui non si sa ancora il titolo, di cui non si sanno ancora i colori di questa scatola, ma si sa che avrà un tema, perché il tema sarà quello degli animali, ok? E questo leak dà, per certi, almeno due dei tre personaggi che saranno inclusi nella scatola. Quindi sarà nuovamente una scatola piccola, con tre personaggi, come tutte le espansioni uscite finora. Ed essendoci animali, il primo che si vocifera possa essere incluso nella scatola è Sher Khan, da Il Libro della Giungla. Quindi la tigre cattiva contro cui Mogli andrà a scontrarsi e riuscirà a sconfiggere con il fuoco che Mogli, essendo un umano, anche se è stato cresciuto da una tribù di lupi ed essendo un po' più affine a un lupacchiotto, il nostro ragazzo selvaggio riuscirà comunque a batterlo e a farlo scappare. Ciao il Tommy, ciao! Allora, così si dice, questi sono Lik, pensavo Dumbo e Bambi, due cattivi per eccellenza. Effettivamente potevano esserci, ma in realtà no. Come vi dicevo, sono Lik, non è detto che ci siano. Sì, Magamago sarà in Bigger and Better, assieme anche a... Aspetta, adesso c'è Lozzo, giusto? Sì, in Bigger and Better c'è Lozzo e c'è Sindrome, perché hanno anche iniziato a introdurre personaggi dal mondo Pixar e poi Magamago, sono loro tre, no? Lozzo, il peluscione, il cattivone di Toy Story 3 e Sindrome, invece, il cattivo degli incredibili. Invece qua ritorniamo quindi proprio su un classicissimo Disney, tratto dal libro di Ronald Kipling, come me la tiro, quante cose che so, e quindi dovremmo forse vedere Sharkan. Secondo personaggio, ecco che arriva invece un film molto molto più recente, sempre targato Disney, perché abbiamo Zootropolis, abbiamo uno dei villain più fighi, perché rimane nascosto tutto il tempo, proprio la classica pecorella in mezzo ai lupi, ed ecco qua che è la nostra assistente del sindaco che si rivelerà con un mega plot twistone, se non l'avete mai visto Zootropolis, questo è un mega spoiler, ma ormai è uscito da otto anni, mi sembra, quindi troppo spoileroso non dovrebbe essere. Io ci avrei messo il bradipo, esatto, Flash, che lavora la motorizzazione, una delle scene più divertenti assolutamente del film, e invece avremo anche lei come teoricamente sicura seconda villain. Poi parlava sempre questa fonte, andava a parlare del fatto che ci fosse in lavorazione un terzo cattivo, che però poi è stato escluso per problemi di bilanciamento, ed è stato sostituito quindi in corsa da un altro villain. E quello che teoricamente doveva esserci, nuovamente ritorniamo nell'universo Pixar, ma bensì nella Pixar dove c'è la principessa Disney Pixar ufficiale, proprio del brand Principessa Disney, perché abbiamo Mordu, l'orsone cattivone di Rebelled Brave, quindi quello contro cui Merida e sua mamma, trasformata in orso, dovranno poi confrontarsi e riuscire, grazie al loro coraggio e alla loro indipendenza, a riuscire a sconfiggerlo, ma si vocifera che Mordu in realtà non ci sarà. Soro che le meccaniche siano originali, perché questi personaggi sono molto particolari, non si sa ovviamente niente, non si sa neanche se siano realmente loro Simo, ma chiaramente ce lo auguriamo tutti quanti, e se così è, un po', allora, non capisco che Mordu c'è come cattivo, raccontano tutta la sua storia, lo si vedrà, ci sarà un confronto con Mordu, effettivamente è un villain un po' particolare, cioè perché è un villain che in realtà non è poi il vero villain della storia, perché in realtà la storia è più sul percorso di crescita della nostra Merida. avverrà anche uno scontro con Mordu, ma che è una delle tante difficoltà che andrà ad avere nel corso della sua avventura. Grazie Mizraim, grazie mille per il follow, benvenuto, benvenuta su Dungeon Dice TV, ti ricordiamo che tutti i giorni alle 13 ti teniamo compagnia parlando di tutto e un po', cultura pop a 360 gradi, principalmente giochi da tavolo, e qua in Next andiamo a parlare di tutte le novità che ci accompagneranno nei mesi, anni a venire dell'universo. Questo qua è Mordu da appunto Brave, ribelle, che si vocifera potesse essere uno dei tre villain inseriti nella futura sesta espansione di Disney Villanous, ma che a quanto pare è stato rimosso, ed è stato rimosso in favore di un villain di un altro brand, come eccezionale, bellissimo, uno dei film migliori sempre dell'universo Pixar, che è Monsters & Co. E però, però, che cattivo c'è? Perché dicono, ah, è stato sostituito dal cattivo di Monsters & Co. Ma quale sarà il monster, il cattivo, il villain di questo... In effetti, come viene? Quale sarà lo scopo di Mordu? Eh, mazza tutti? Cioè, non lo so, probabilmente il problema di bilanciamento derivava da quello, non lo so. E invece qua, chi avranno messo? Avranno messo Randall, il super viscidissimo Randall, ispirato ovviamente a Steve Buscemi, che gli dava anche la voce in originale, perché è uguale, è uguale, mille volte vedo questo, ma chiaramente qua abbiamo un personaggio maggiormente caratterizzato, abbiamo un villain classico, quello che per tutto quanto il film cercherà di mettere i bastoni tra le ruote, i nostri protagonisti, che avrà un piano malvagio che sarà letteralmente cattivo, perché quando Scully inizierà a prendersi cura di Bo, invece Randall, assolutamente no, Randall, lui, essendo il mostro proprio di quella bambina, cercherà di ricatturarla e cerca in tutti i modi di giocare sporco contro il nostro supereroe. Rattigan resta di gran lunga il mio preferito, Rattigan sì, anche per me è un grandissimo villain, per fortuna già ce l'hanno dato, già ce l'hanno dato Rattigan. Sento d'odore di altro spoiler, se non avete mai visto Monster Seco, è colpa vostra, cioè è colpa vostra e quindi tanta roba, un sacco, avevo un compagno in classe che assomigliava un sacco a Randall, perché era camaleontico, riusciva a diventare invisibile, cosa faceva, oppure aveva la coda, o otto zampe, come era fatto questo tuo compagno Mr. Seco, però dicevo, allora, secondo me è molto probabile che sia Randall, per quanto, se poi ci pensate, se avete visto, chiaramente Monsters & Co., ecco che anche il capo della Monsters Inc., in realtà si rivela essere il vero Deus Ex Machina, la vera mente criminale sopra Randall, che altro non era che un suo scagnozzo. Quindi non lo so, quindi non lo so. Allora, Randall è più facile, secondo me, andarlo a mettere come villain, perché hai molte più, anche scene del film, molti più passaggi del film a cui appiccicarti, da cui prendere e poter trasporre in meccanica di gioco, ok? A differenza hai il stesso sorriso e gli stessi occhi, bene? Voglio vedere un'altra foto di classe, voglio vedere un'altra foto di classe, Mr. Seco, sappi, no? Quindi hai chiaramente più da prendere, però poi cosa gli fai? Cioè, lui che è un suo alleato, cioè lui è davvero un doppio cattivo? Potrebbe anche essere, potrebbe anche essere, però come vero villain mettere appunto il mega boss, il padrino e Randall come un alleato, magari molto persistente, che rientra in gioco più e più volte? Non lo so, non lo so, però per adesso non sappiamo neanche in realtà se effettivamente saranno loro. Però mi è piaciuto un sacco che mi abbiate segnalato questo leak che c'è stato dedicato proprio all'universo di Disney Villanus, perché è bello anche fantasticare un pochino insieme in queste occasioni, secondo me. È proprio divertente e piacevole andare a vedere un po' tutti questi spoiler, questi dietro le quinte, e fantasticare un po' insieme su quali potrebbero effettivamente essere anche poi le meccaniche di gioco, quando in realtà questo gioco non c'è ancora, non è ancora stato annunciato, ma a quanto pare sono al lavoro e a quanto pare qualcuna delle persone che gravitano attorno a questo lavoro ha fatto qualche piccolo spoilerino, quindi staremo a vedere. Ma lo squalo di Alla Ricerca di Nemo non ci sarebbe stato stravele, no? Perché è uno squalo vegetariano, che i pesci sono amici, non cibo! Scusami, Simo, come fai a renderlo cattivo? Come fai a renderlo cattivo? Cioè, in Nemo non c'è un vill... Anche lì, come per Mordu, ci sono tanti ostacoli che si andranno a cercare di superare nel corso del percorso di crescita, che poi è lo stesso identico, che fa per motivi diversi, che fanno Nemo e il papà di Nemo e Marty, così come lo fa anche Brave, c'è il discorso della crescita di un percorso, di un viaggio, come anche proprio quello del Signore degli Anelli, di cui parleremo poi venerdì nel caso, e spoiler, mi è piaciuta, quindi io mi aspetto a tutti quanti voi che mi insultiate venerdì mentre parleremo in keep up di questa questione. Ogni tanto passa dai cattivi, sì, 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 tipo Kronk, sì, ci sta. Però, però, andiamo, quindi salutiamo questo mega, mega spoiler, questo mega spoiler, e andiamo a vedere, e andiamo a parlare un po' delle novità che vedremo in questa settimana, nella prossima settimana, in uscita nei negozi italiani. Si sta avvicinando Look Comics & Games, quindi lunedì prossimo, inizio ad avvisarvi, faremo un recappone di tutte quante le uscite, di tutti quanti i titoli che saranno in demo, in vendita, in anteprima, a Look Comics & Games all'interno del padiglione Carducci, quindi lunedì prossimo ci concentreremo proprio maggiormente su quello, come avevamo fatto per Essen, andremo anche a sentire da parte vostra quali saranno i titoli che voi state attendendo di più, e vi segnaleremo magari anche qualche evento speciale, qualcosina, che andremo a fare magari anche noi nel corso della fiera, dove ci potrete trovare, magari ci saranno di firma copia, magari ci saranno delle anteprime, magari ci saranno dei gioca con l'autore, insomma vi racconteremo tutto quanto il prossimo lunedì. Sealanders ci saremo anche noi a Lucca, ci sarà anche Giulia, ci sarà anche Silvia, e vi daremo poi tutti quanti gli appuntamenti dove incontrarci assolutamente. Comunque andiamo avanti e sul Italia andiamo a vedere, che già ve ne avevo parlato, ma questa settimana, venerdì, uscirà nei negozi. Grazie mille Impecorator per il rinnovo dell'abbonamento, grazie mille davvero. Mi sono dimenticato l'acqua tra l'altro, oggi sono una testina, comunque. Ecco che uscirà, finalmente già ne avevamo parlato quando era stato annunciato, ma uscirà un nuovo capitolo della serie Cartaventura. Quindi dopo Team Tuggle, l'avventura demo che avete anche provato in fiera, che sicuramente anche a Lucca potrete provare, e Bevi, appunto esclamativo Bevi, ai ai ai, non ce l'abbiamo. Il mio destino è nelle tue mani. Perfetto, Kurt, allora lunedì prossimo saremo qua, sperando di darvi tutte le notizie necessarie. Dicevo, un nuovo capitolo dopo Team Tuggle, dopo Vinland, dopo Lassa, ecco che ritorna, localizzata in italiano, una nuova avventura di Cartaventura. Abbiamo già anche parlato proprio la scorsa settimana, se vi ricordate, di Hollywood, che è stata annunciata sul mercato francese, che mi auguro fortemente che possa arrivare anche poi sul mercato italiano. Ed ecco che in Cartaventura Oriente ci spostiamo nel mondo del deserto, andremo per l'appunto in Oriente, lungo la Via della Seta, carovane fatte di cavalli, ci metteremo sulle tracce di Ian Battuta. Ne abbiamo già parlato, è questo mercante, nonché scrittore, vissuto nel 1133, se non mi sbaglio, ma c'è scritto qua, 1331, ho invertito i numeri, portate pazienza. Andremo per l'appunto a ripercorrere le avventure, i viaggi che ha fatto lungo la Via della Seta, questo Ibn Battuta, e dovremo per l'appunto prendere decisioni, fare, incontreremo dei bivi, bivi che potremo in alcuni casi scegliere dove andare, in altri casi le nostre azioni precedenti avranno modificato determinati valori, e quindi avremo delle scelte obbligate in alcuni momenti. In base alle scelte che faremo, agli oggetti che troveremo magari facendo queste scelte, allora ci si sbloccheranno sempre via via nuove avventure, nuovi percorsi da dover intraprendere per raggiungere uno dei cinque possibili finali. Quindi ognuno avrà, diciamo, non c'è il finale giusto e il finale sbagliato, sono semplicemente finali diversi ai quali si arriva per l'appunto percorrendo quelle che sono le nostre scelte. Un gioco comunque altamente rigiocabile, non solo per vedere tutti quanti i finali, ma anche per capire quali scelte fare per riuscire ad arrivare a un determinato bivio, con le condizioni necessarie per poter andare in quella direzione che ancora non si era riusciti a vedere. Noi abbiamo già giocato i primi, ci sono piaciuti tutti quanti un sacco e questo qua non vediamo assolutamente l'ora di provarlo. Io ci sarò, spero di incontrare qualcuno di voi, sì sì, ma Alex vi daremo lunedì prossimo, vi daremo tutti quanti gli orari, tutti quanti gli appuntamenti, ci sarà modo assolutamente di incontrarci, di vederci e di fare delle cose speciali assieme. Per adesso inizio soltanto a dirvi questo, ma assolutamente sì, ci sarà la possibilità di fare cose speciali. Buongiorno Alberto, io lo sto aspettando che l'avevo preordinato, bravissimo Fabio Galbiati, buongiorno a te. E quindi sì, ci vedremo assolutamente, bravissimo che hai preordinato la nuova uscita, che è venerdì, è il suo day one, e quindi tutti quanti lo potrete ricevere e avere. Tra l'altro, se poi proprio dopo che avete giocato, rigiocato e stragiocato, potete fare come Mr. Simo, lo potete passare a qualcun altro, assolutamente. E andando avanti, ecco che questo, in realtà, la day one è dato immediatamente dopo Lucca, ma secondo me magari a Lucca lo si vedrà, perché anche di questo già ne avevamo parlato quando era stata annunciata questa espansione da parte di Rebel, in realtà arriva anche l'ufficializzazione, la conferma, che sarà localizzato da Asmoday Italia. Avevamo già qualche sentore che si sarebbe andati in quella direzione, Ah, non l'hai mai giocato, gliel'hai solo regalato. Vabbè, hai fatto comunque bene, sì, vabbè, magari quando lui l'avrà finito avrai l'occasione di provarlo anche tu. Dicevamo, arriva quindi l'ufficializzazione del fatto che l'espansione di Meadow Downstream arriverà anche in italiano, localizzata da Asmoday Italia. E che cosa va ad aggiungere a questa espansione oltre a questa bellissima Londra sulla copertina, perché è veramente, veramente dolcissima con quegli occhioni lì che ti guarda tutta carina, carina, carina. Cosa va ad aggiungere? Va ad aggiungere non solo nuove carte con dei nuovi simboli legati tutti quanti al mondo acquatico, ma va anche ad aggiungere una nuova plancia con una nuova meccanica di gioco nella quale noi andremo a percorrere un fiume che avrà, come vedete, anche delle biforcazioni. Potremo scegliere noi, ottenendo determinati simboli pagaia di quanto poterci muovere, in quali direzioni andare, perché in determinati slot avremo la possibilità di avere dei piccoli bonus, avere delle cosine in più, delle piccole azioni in più da poter fare. Quindi va ad aggiungere ciao mister Simo, ciao, buon lavoro, alla next, alla next assolutamente. Quindi abbiamo in più questo nuovo livello, questa nuova meccanica che viene introdotta all'interno del gioco oltre a nuove carte, chiaramente tutte quante a tema fluviale, perché la nostra passeggiata nei boschi passerà anche con la nostra canoa, con le nostre passeggiate proprio lungo gli argini dei fiumi ed ecco che andremo anche a vedere nuove tipologie di animali che vivono in questi ambienti. Alcune di queste avranno gli stessi simboli come vedete, che già sono presenti sulle carte del gioco base, ma ci sarà proprio questa nuova plancetta con questo nuovo dispenser dove poterle andare a mettere, ma ci saranno anche proprio nuovi simboli legati proprio all'acqua, quindi avremo anche il simbolo del pesce ad esempio, che ci darà, come vedete anche con quei remi, con quelle pagaglie di sotto, la possibilità di far muovere la nostra canoa. Io sono molto molto curioso di vederla, sono molto curioso di provarla, tra l'altro ogni giocatore avrà un tassellino in più con cui potrà andare a prendere queste carte. Buongiorno KD, ciao, ciao, ben arrivato Gianluca, grazie mille per essere qua. Quindi, arriverà, parlerà italiano anche questa espansione, molto curioso, il gioco base già è molto vario, si hanno comunque un sacco di carte, ma sono curioso di vedere come sono andati ad implementare comunque questa nuova meccanica, soprattutto del fiume, oltre alle nuove tipologie di carte, all'interno di Meadow, di cui vi ricordo, se non lo conoscete, ne avevamo parlato in un game fight qualche settimana fa, confrontandolo con Living Forest, e nel caso, la trovate ricaricata sul canale YouTube di DungeonDice.it, che potete andare a scoprire dove oltre a recuperarvi le vecchie live troverete anche tutti quanti i trailer dei giochi che fa la nostra fantastica Sara, e quindi il consiglio ed è, se ancora non l'avete fatto, andate ad iscrivervi. Il camionone sarà doppia faccia, da una parte è un percorso tranquillo, dall'altra ci saranno le rapide, sì, tra l'altro si va ad unire alla plancia quella rotonda del falò, e quindi si incastra tutto quanto sia, a me mi piace quando anche gli elementi delle espansioni vanno ad unirsi agli elementi già esistenti del gioco base, come anche per esempio in Seven Wonders Duel, dove le due espansioni, sia Pantheon che Agora, la plancetta va a incastrarsi e tutte e due assieme vanno a creare una nuova terza plancia, praticamente, con il tabellone del gioco base, mi piace un sacco. Ho paura per la mia paralisi d'analisi. Everdel, dove si uniscono e ti occupano la casa? Anche NetDreamer, anche assolutamente sì, ciao, benvenuto, grazie per essere qua. E quindi ecco, questo qua è ancora un particolare del tabellone, proprio del nostro fiume sul quale ci andremo a muovere, sicuramente si creerà anche una bella interazione anche in questo spazio che mi piace, mi piace davvero un sacco. Ma andiamo avanti perché Studio Supernova ha annunciato, come vi parlavo anche nel titolo della live, giochi tratti da videogame, questo non è l'unico ma diciamo è l'unico videogame in realtà che conosco un pochino di più perché fa un po' più parte della mia gioventù, della mia giovinezza. Ciao Michele, parlavamo di te, parlavamo di te che non eri venuto a darci il buongiorno, eravamo tutti preoccupati e anche un pochino offesi. Ciao, ben arrivato. Comunque Street Fighter, il famoso cabinato picchiaduro uno versus uno che poi ha avuto un sacco di rivisitazioni, Street Fighter 2, 3, 4, 1000, super, per chi più ne ha più ne metta, quando si giocava sui cabinati, esatto, dove Studio Supernova porta questa, prima della, sono tre scatole in realtà legate al marchio Street Fighter di questo sistema Exceed. il fighting system di Exceed esiste da un sacco di tempo e ci sono una svalangata o scoperto di giochi legati a questo sistema Exceed che io non conoscevo, ammetto la mia ignoranza, nel quale appunto sono tutti quanti i giochi che sfruttano lo stesso, le stesse meccaniche fondamentalmente, lo stesso sistema di gioco, tutti quanti i giochi di combattimento uno contro l'altro, così come anche questo Street Fighter, tema che sicuramente ben si presta all'essere giocato nell'uno contro uno. Spoiler, l'ho giocato ieri questo gioco, quindi sono un pochino ferratilo sull'argomento perché nel gioco noi avremo una mano di carte, ognuno di noi avrà un mazzetto di carte in cui una parte delle carte sono uguali tra i giocatori e una parte saranno specifiche del personaggio che voi scegliete di giocare e come vi dicevo in questa scatola che è la prima e per ora unica che arrivate in italiano il gioco è fortemente dipendente dalla lingua possiamo scegliere uno di questi quattro combattenti. Ryu, Zangif, Sagat e Akuma si chiama che non ho mai sentito quindi presumo che venga probabilmente da qualche versione nuova di Street Fighter di quelle arrivate post Tekken praticamente perché mi ricordo che il picchiaduro uno contro uno è stato Street Fighter per un sacco di tempo poi era diventato Tekken Tekken 2 Tekken 3 e poi da lì avevano iniziato a fare dei mega mischioni pazzeschi di picchiaduro così uno contro l'altro non conosco Akuma Midrime no sono talmente vecchio che quando giocavo io ancora non potevi neanche selezionare Mr. Bison Sagat Vega o Balrog per combattere potevi solo scegliere gli otto personaggi base poi mi ricordo che era uscito lo Street Fighter 2 forse dove c'era Cammy mi sembra di ricordare la ragazza che era un po' il Gail versione femminile questa ragazza con tutte le gambe mimetiche che usava tutti i calci un po' tipo Eddie di Tekken mi ricordo questa cosa perché l'avevo giocato un paio di volte in sala giochi ma io ero ancora dei tempi dei cabinati cioè dove io andavo in sala giochi a giocare non giocavo sulla consola a casa andavo in sala giochi mettevo il gettone e fatevi e picchiavi comunque comunque dicevo scegliete il vostro personaggio avete la vostra mano di carte che giocherete per attaccare l'altro giocatore ogni carta avrà un range tra l'altro qua dietro vedete un tappetino che in realtà non è incluso nella scatola è un extra che si può prendere sul sito dell'editore originale in America eccetera eccetera comunque ogni carta avrà un range per poter fare l'attacco un valore di velocità che determinerà se attacca prima l'attaccante o il difensore e quanti danni facciamo all'altro lo scopo del gioco è portare l'altro a zero di vita fondamentalmente il gioco in realtà è molto veloce di per sé perché non ci sarà mai la possibilità di curarsi ma le carte che useremo per attaccare l'altro andranno nella nostra gauge ovvero nella nostra barra della carica e le potremo utilizzare per lanciare le carte con i nostri attacchi speciali molto forti che quelli quando vanno segno abbiamo teoricamente abbastanza vinto la partita Akumo è stato rinominato anche in Go Gouki ok grazie Neo Devilman grazie mille allora e come dice Mattia perché Mattia ha già saputo alcune delle mie impressioni come vi dicevo l'ho giocato ieri e ho trovato purtroppo un grosso ostacolo nel regolamento pur giocando tanto e quindi mangiando molti regolamenti ho fatto molta fatica a capire certi passaggi delle regole ho dovuto fortunatamente sono riuscito a giocare dopo aver visto dei video online che mi hanno un po' spiegato le regole perché il regolamento ho poi scoperto confrontandolo con regolamenti in inglese tra l'altro alcuni refusi alcune passaggi non sono ben chiari si sono persi dei pezzi nelle traduzioni ma comunque non è così chiaro secondo me il regolamento per un gioco che poi di per sé è molto molto semplice perché è proprio tutto un gioco la carta e la carta o la uso per fare l'azione che c'è scritta sopra o la uso per muovermi fondamentalmente avvicinarmi o allontanarmi dall'altro e poi ci attacchiamo ma sarà tutto un mi attacco mi difendo mi attacco mi difendo e fine mi è un po' spiaciuto ammetto cioè ora uscirà ma provatelo e fatevi la vostra idea io lo giocherò ancora però ho solo una partita alle spalle mi piaceva tantissimo l'ambientazione a parte Akuma che non conoscendolo non mi interessava mettimi Chun-Li piuttosto mettimi Dal-Shim mettimi qualcuno che conosco ma vabbè lì è colpa mia che sono vecchio mettimi Bison ma Bison era già troppo forte Bison era troppo forte e non era divertentissimo da giocare chiaramente come vi dicevo ci sono già altre due scatole che per adesso in italiano non sono state localizzate con altri personaggi ogni personaggio gioca un po' in un modo diverso chiaramente Zangief per esempio gioca tutto quanto ravvicinato perché se ti è vicino ti fa un sacco male se ti è lontano mezzi suoi attacchi non hanno effetto perché ha bisogno di esserti vicino mentre Ryu già solo è più forte se è un po' più lontano è molto più agile Sagat addirittura ti salta davanti e dietro e fa casini ma Bison originale o nella versione modificata si poi qua ce ne sono stati tutti i casini e o va che modo regolamento semplicemente scritto in Aramaico Antico rigiocabilità c'è molta strategia o è più o meno culo allora per ribadisco ho fatto una partita e quindi prendetelo molto con le pinze c'è molto culo perché tu tanti attacchi li farai pescando una carta a casa dal mazzo la giri e vedi se quell'attacco va a segno oppure no se non va a segno ne giri un'altra finché non trovi qualcosa con cui riesci a combattere quindi in realtà da quel punto di vista strategia non ce n'è così tanta se non sul cercare di conservarti le carte dei tuoi attacchi speciali molto forti che ti richiedono magari 3, 4, 5 di gauge e quindi riuscire a fare quel tot di attacchi prima senza ancora essere sconfitto di modo da avere sufficiente carica da scartare e poterti giocare l'attacco grosso che solitamente va a segno e vinci perché magari fai 15 danni con un solo attacco gli togli più di metà della vita che si ha e comunque uscirà provatelo e siate curiosi siate curiosi non fatevi frenare come sempre da un commento come vi dico basato su un'unica partita che approfondiremo ancora e no e sempre con studio supernova arriva anche no grazie anche questo l'abbiamo già provato l'altro ieri questo no ieri gioco per 3, 7 giocatori che ho scoperto che sarà un gioco del 2004 che si chiamava no thanks e mi è stato detto che esisteva il gioco della dal negro che si chiamava no mercy e che funzionava allo stesso identico modo servono due mazzi per giocare uno per ogni contendente sì 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 miz rhyme ma tu nella scatola di questa scatola qua vi faccio rivedere hai questi quattro personaggi questi quattro mazzi e quindi hai già comunque quattro personaggi diversi da far scontrare uno contro l'altro però sì ognuno avrà il suo mazzetto e poi come ti dicevo ci sono già in realtà in inglese in italiano non ancora altre due scatole una con Chun-Li in copertina e una con Ken in copertina no scusami una con Bison in copertina ma che neanche uno dei personaggi giocabili che ognuna ti introduce altri quattro personaggi figurati miz rhyme è un piacere sono qua per questo quindi benissimo che chediate in chat proprio perché la chat a questo serve a questo la chat serve dicevamo no grazie ciao Pennywise no grazie un gioco di carte molto molto semplice che si basa sul prendere meno carte possibili ecco perché no grazie perché verrà rivelata una carta e se tu la vuoi la prendi se non la vuoi lasci sopra un tuo gettone e dici no grazie perché questa carta io non la voglio e tutti quanti vanno avanti così finché qualcuno se la prende per forza e perché noi queste carte non le vogliamo perché le carte sono numerate da 3 a 35 9 carte vengono tolte casualmente all'inizio della partita senza sapere quali siano le 9 carte e se io prendo la carta 32 perderò 32 punti alla fine della partita se ho la carta numero 5 perderò 5 punti alla fine della partita il trick qual è tolta che ogni tanto sarò obbligato a prendere delle carte che ogni gettone che mi avanza sono punti in realtà positivi quindi li vado a scalare dai punti che ho perso alla fine della partita ma se io riesco ad avere 10 11 e 12 non sto perdendo 33 punti 10 più 11 più 12 ma siccome sono in una scala io pago solo il più basso di quella scala quindi ogni tanto prenderti qualche carta cercando però poi di andare a prendere anche le carte che vanno a incastrarsi in mezzo e ti chiudono una scala è figo peccato che 9 carte sono state tolte e quindi tu non sai fino alla fine hai la tensione fino all'ultima carta se quella tal carta che ti interessa a te c'è o non c'è e se qualcun altro me la toglie posta per non farmi chiudere quella scala ma c'è una bella tensione tra i giocatori si gioca minimo in 3 massimo in 7 noi l'abbiamo provato in 3 e 4 e funziona bene molto semplice molto veloce è il classico gioco che sta in una tasca e che lo fate giocare a chiunque dopo il pranzo in famiglia lo fate giocare a nonna lo fate giocare alla zia tutti quanti lo riescono a giocare proprio perché è super mega semplice la vuoi questa carta si o no? no allora c'è un gettone e fine come feeling mi ricordo un po' 6 le prendi sì anche lì c'è la questione che le carte le prendi più carte hai peggio è fondamentalmente che quindi devi cercare di non prenderle però 6 è più è molto più strategico questo lo è molto meno su 6 devi ragionare molto più a lungo termine è un gioco molto più profondo in realtà 6 devi gestire una tua mano di carte per far sì di non prendere di obbligare gli altri a prendere e non prendere tu qua in realtà questa gestione non ce l'hai perché il mazzetto è comune a tutti quanti si gira una carta e la vuoi? no allora lascia il gettone tu la vuoi? no tu la vuoi? ma sì io la prendo ok allora tocca a te e si gira un'altra carta molto 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 semplice ciao Yukte ben arrivato ciao gioco tipo 1 o lama? sì 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 effettivamente anche come 1 come lama per quanto anche lì in entrambi c'è una gestione della tua mano di carte tu hai delle scelte su cosa devi fare con le carte che hai in mano e giocartele nel miglior modo possibile ok sono più semplici sicuramente rispetto a 6 l'amante è molto divertente però è già una gestione della mano qua non ce l'hai qua è proprio soltanto un prendere la carta al momento giusto sperando che ti dica anche un po' bene però comunque divertente fa il suo è veramente giocabile proponibile a tutti quanti e qua come vedete per l'appunto queste scale vabbè qua le hanno messe al contrario le carte comunque quella dal 29 al 24 paga solo 24 punti gli arrivasse il 23 le unirebbe tutte quante e quindi andrebbe a pagare poco e niente però le hanno messe su al contrario in questa foto quindi tiriamogli le orecchie mettete le più alte sotto e le più basse sopra così è più facile capire quanti punti state pagando fondamentalmente anche per voi e quali numeri vi servono comunque anche questo qua da studio supernova arriva presto è stato intanto annunciato anche dalla JAMA Games la casa editrice di caffè uno dei finalisti del gioco di ruolo di del gioco di ruolo scusate del gioco da tavolo dell'anno di quest'anno che verrà premiato poi a Lucca Comics hanno annunciato Polinesia titolo che non conoscevo ma che ha questa grafica molto carina sulla copertina con queste navi ricorda molto il mondo di Oceania di Maui comunque ricorda chiaramente quel mondo lì proprio perché lì è ambientato ed è anche questo un gioco molto molto semplice nel quale noi dovremmo far muovere da quest'isola con questo vulcano in eruzione e quando il vulcano erutterà sarà finita la partita e salutiamo come sempre il mitico Domenico Bini con la sua hit sempre verde il vulcano ha eruttato che ricordiamo sempre sarà uno dei più grandi capolavori della musica italiana assomiglia a The Island come tematica come tematica assomiglia a The Island perché anche qua noi siamo in fuga tra virgolette ci sposteremo su questi isolotti di questo arcipelago e c'è la questione di questo vulcano che sta per eruttare semplicemente il vulcano che sta per eruttare è una meccanica nella quale andremo a togliere dei cubetti da un sacchetto alla fine di ciascuna delle nostre azioni e quando saranno usciti tot cubetti rossi sarà finita la partita quindi in realtà possiamo tenere un pochino traccia di quante azioni abbiamo ancora di quanti round abbiamo ancora ci sarà un momento in cui sta per uscire l'ultimo cubo e c'è la tensione di cercare di fare le cose dopo di fare le cose in tempo prima che la partita sia finita ciao di Ice and Meeple ciao un salutone buona giornata a te come dicevo appunto noi quindi dovremo andare a mettere in gioco sia le nostre navi che i nostri omini per farli spostare su queste isole più lontano andranno maggiori saranno i punti che faremo otterremo raccogliendo questi tassellini e noi avremo sempre un tot di punti azione 3 poi 2 poi 1 e poi ci sarà la fase di fine round in cui tutti quanti i giocatori a giro fanno questo numero di azioni ci sarà anche un po' di interazione data dal poter sfruttare le navi degli altri giocatori solo se portiamo siamo a noi un omino di quel giocatore quindi lo stiamo aiutando ad andare più lontano ma allo stesso tempo noi non abbiamo perso tempo a giocare le nostre giocare le nostre navi e più omini riusciremo a mandare dentro maggiori saranno i punti che faremo e più saranno questi tassellini che abbiamo raccolto e più sono lontani più punti ci danno più punti faremo molto molto semplice fusion island più clank come idea di andare a raccogliere i tesori più lontani assolutamente sì molto molto semplice però comunque grafica piacevole gli omini colorati sono bellini una prova magari se c'è l'occasione la si farà e signore e signori ritorna finalmente disponibile Onirim dopo un sacco di anni arriva in edizione italiana grazie a Olifante una nuova ristampa di Onirim nella versione quella del 2014 quella che include le sette espansioni al suo interno gioco solitario che si può giocare in realtà anche in due collaborando ma che nasce comunque come solitario ci gioco da anni sul tablet sì c'era un'ottima app ben fatta di Onirim me la ricordo gioco nel quale noi dovremmo vinceremo se riusciremo ad aprire le otto porte che sono incluse nel gioco porte che potremo aprire in più modi quando pescheremo una porta se abbiamo in mano una carta chiave dello stesso colore la potremo aprire oppure se riusciamo a giocare carte noi giocheremo sempre una carta e ne pescheremo sempre una e riusciremo ad aprire una porta se riusciremo a giocare tre carte dello stesso colore che abbiano però tre simboli diversi non possiamo mai giocare due simboli uguali uno dietro l'altro ma i simboli sono soltanto sole l'una o la chiave scartare le carte incubo che potranno arrivare dal mazzo che quando arrivano ci obbligano a richiudere una porta o a farci scartare carte o comunque a scartare una carta chiave insomma una gestione della mano molto molto tesa molto interessante perché avremo sempre solo tre carte in mano e quindi dobbiamo fare delle scelte veramente al millimetro chiaramente c'è una dose di casualità da come ti arriveranno le carte li possono arrivare tutte benissimo così come tutte malissimo e si rimescolerà il mazzo un sacco di volte questo abituati e vc mi sa che arriva anche un altro gioco si Alex ne parliamo ne parliamo subito perché come Alex ci anticipa oltre al nostro Onirim di cui qua vedete appunto alcune un close up della mano di carte di questa giocatrice ecco che arriva anche Stellarion sempre la stessa casa editrice sempre editore sempre questo anche portato da Olifante e anche questo Enio funziona anche in due scusami di che Alex nessunissimo problema ma no ma nessunissimo problema ci mancherebbe hai fatto bene mi hai dato il gancio per passare al prossimo gioco quindi guarda mi hai fatto un assist perfetto un bellissimo cross lungo la faccia si dice è giusto in gergo calcistico un cross lungo la faccia non lo so un assist quello di sicuro l'hai fatto però per rispondere a Enio sia Onirium che Stellarion si giocano in solitario ma possono anche essere giocati in cop ci sono proprio le regole per giocarle in due per uno o due giocatori e collaborando comunque rimangono collaborativi una fascia lungo il cross anche 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 quello e gioco Stellarion si basa un po' sullo stesso principio anche qui avremo queste carte con questi disegni un po' particolari ok sulle sulle carte qua la differenza è che noi dovremo anche qua non aprire quattro porte ma lanciare quattro missioni interplanetarie due alfa due beta due gamma due delta con i vari colori alber che parla di calcio esatto ogni tanto eh perché c'è stato anche il derby di Torino questo sabato eh sabato mi parlavano del derby mai seguito mai visto ma chi ma cosa ma quando mai io neanche sapevo che ci fosse il derby comunque ehm dicevo queste carte saranno distribuite in otto mazzetti di cui noi avremo sempre accesso alla carta in cima a questi otto mazzetti e nel corso del gioco noi potremo combinando carte con simboli uguali o simboli diversi che ci saranno se sarà lo simbolo del missile del pianeta della nebulosa sulle varie carte combinando questi simboli a seconda del simbolo che stiamo andando a combinare con quale simbolo abbiamo delle azioni diverse da poter fare che ci permettono di gestire questi mazzetti per trovarci poi nella condizione di poter lanciare la missione e riuscire a lanciare tutte quante otto le missioni sì Marco quanto pare c'è stato il derby vedete ho trovato un bundle con tutti tranne quest'ultimo pubblicità parte ah pubblicità e parte quella del calcio mi sembra giusto mi sembra giusto mi sembra giusto vale tutto collegato ci ascoltano ci ascoltano ci ascoltano ovviamente questo punto non l'ho non l'ho mai provato a leggere le regole mi è sembrato un po' più non voglio dire complicato ma con più regole rispetto a Onirim Onirim ha dalla sua di essere proprio molto molto immediato poi volendo andando ad aggiungere le varie espansioni si aggiunge qualcosina in più anche questo Stellarium ha 3-4 moduli di espansione scusate già inclusi all'interno della scatola mi è sembrato mi è sembrato leggermente meno immediato nella sua sola modalità base rispetto a Onirim ecco poi magari giocandolo no giocandolo poi magari non hai questa sensazione alla sola lettura delle regole mi è sembrato meno immediato rispetto a Onirim però sicuramente curiosi di riuscire a provare anche questo soprattutto per tutti coloro che giocano in solitario sicuramente due titoli da tenere sott'occhio e tra l'altro sono disponibili da questa settimana e quindi nel caso su DungeonDice su DungeonDice.it li potete trovare nel caso digitate punto esclamativo sito in chat anzi provate lo faccio io ecco vai andando sul sito li potete li potete prendere c'è di torve e autori e ne ha fatti di giochi simili sì 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 sono l'idea di fondo è la stessa però poi si sviluppa in modo molto diverso secondo me rispetto a Onirim quindi ci ci sta ci sta assolutamente ecco questo qua è un set di carte che ci permettono di fare il lancio del il lancio giusto perché sono tutte carte delta tutte con simboli diversi e ci permetteranno di fare il lancio delta e noi però dobbiamo fare in modo che quelle quattro carte si vedano simultaneamente in cima ai mazzetti e non sarà non sarà semplicissimissimo e con questo ricordandomi anche di Cartaventura Oriente si chiudono le news che arrivano dall'Italia ma le news non finiscono qua perché io nel titolo vi ho promesso vi ho promesso di parlarvi anche di titoli che arrivano da oltreoceano e soprattutto delle delle trasposizioni delle trasposizioni in salsa gioco da tavolo di giochi di videogame molto molto famosi ora vi chiedo scusa ma devo aprirmi una scheda perché altrimenti mi perderò dei pezzi perché ritorniamo a parlare in realtà di un annuncio che già era stato fatto un po' di tempo fa ovvero del gioco da tavolo di Elden Ring l'anello Eldico dovrebbe essere titolo che io non conosco non ho mai giocato non so minimamente come sia questo videogame ma già ne avevamo già parlato in Next tempo fa grazie Tribreso grazie mille grazie mille per l'abbonamento e un salutone anche a te Dungeon Store di Savona intanto si diventa molto stupito di questo annuncio Albi se nulla della Big Box di Porto Royale purtroppo no Tania purtroppo no non ti so dire mi dispiace ma quello me lo ricordo dai TikTok anche di Giula in Tok Tok quelli con Alfredo dei The Jackal che salutiamo perché ci guarda ovviamente sempre però non però non so non l'ho mai giocato in realtà il videogame come spette io sono rimasto fermo il primo Street Fighter figuratevi se so qualcosa di questa cosa qui ma era stato annunciato per l'appunto il gioco da tavolo e proprio in occasione della fiera di Essen sono stati intervistati i aspettate che devo trovare la scheda giusta ok sono stati intervistati gli sviluppatori e hanno dato qualche informazioncina in più qualche informazioncina in più innanzitutto il designer hanno detto mai dire mai alla possibilità di farne anche una versione gioco di ruolo e quindi amanti dei giochi di ruolo con questa possibile ambientazione siete avvisati per quanto per ora è un mai dire mai che vuol dire tutto e vuol dire niente diciamoci la verità però cosa che come tutti quanti noi sappiamo il gioco da tavolo vorrà ricreare ciò che fa anche il gioco di ruolo ovvero quello di un open world con una campagna non lineare no giusto dovrebbe essere così come era stato annunciato scusate ragazzi sto leggendo perché ovviamente non so niente come era stato annunciato questo adattamento da parte della software della software del appunto in questo super popolare successore della serie di dark soul ah successore della serie di dark soul in questo comunque c'è un open world in cui si fanno delle campagne in cui il nostro eroe si potenzia eccetera eccetera nella trasposizione in gioco da tavolo anziché dicono allora ve lo leggo paro paro così non faccio cagate allora anziché creare un davvero massivo e poco praticabile mappa del gioco da tavolo di elder ring quindi anziché fare un'unica mappa mega gigante che sarebbe stata scomoda da utilizzare dicono che hanno diviso il tutto quanto in terre più piccole ok che possano essere esplorate in scenari separati e più digeribili utilizzano proprio questo termine e Sherwin Matthews dice che ognuna di queste terre potrà essere esplorata individualmente piazzando delle tessere che andranno a creare questo paesaggio e che si scoprirà quindi man mano che cosa ci aspetta ci saranno un sacco di nemici e di boss che sono quelli di questa immagine eh come come sono arrivato che videogioco dice Mattia esatto 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 potrebbero uscire un'exploit di kit in elder ring adesso puoi vi recupero potrebbero potrebbero ci vedo un po' di mage knight come tipo può essere può essere potrebbe essere no digeribile allora non so di preciso cosa intenda proprio perché io non ho idea di come sia fatto il videogioco penso che intendano anziché fare un'unica mega mappa che è più scomoda abbiamo tante mappe piccole che vai proprio a creare piazzando tessere attaccate l'una all'altra comunque dice che ci saranno un numero di nemici di boss del videogame che arriveranno e ci sono i nomi tipo godrick the grafted margit the fell omen che probabilmente tutti voi conoscete ma io no e noi il nostro personaggio andrà a vivere quindi queste campagne separate su ognuna di queste mappe migliorandosi livellando diventando via via più forte aumentando le proprie statistiche acquisendo nuovo equipaggiamento e scoprendo nuove location però quello che mi chiedo io è se ho ben capito sono tutti quelli di lettering ok gli fell 65 anche si tutti e morendo male e morendo male fall omen no non so se è una battuta che non capisco non conoscendo il cosa no no è fell omen il fell omen il d era il d inglese che vi ho letto l'uomo l'omen caduto boh l'antico caduto non lo so comunque quello che vi domando è queste mini avventure separate se io ne faccio faccio l'avventura a mi potenzio prendo degli occupaggiamenti poi me li porto nell'avventura b come fanno a livellarmi i personaggi i nemici se io invece faccio prima la b e poi la a cioè non so se mi sono spiegato non ho ben capito proprio perché non conoscendo il videogame non ho ben capito di che cosa stesse discutendo il designer dell'autore del gioco però andiamo a vedere andiamo a vedere capiremo scopriremo ma oltre a questo annuncio c'è stato un altro annuncio sempre durante lo spiel legato al brand di terra mistica e no non stiamo parlando di terra nova di cui già abbiamo parlato che a essere a quanto pare è uscito e io non ne ho sentito minimamente parlare però vabbè andremo a vedere beh ci sta ci sta Mizzraim assolutamente assolutamente sì assolutamente sì dicevo torniamo a parlare di terra mistica ma non di terra nova bensì di uno spin off di un nuovo spin off di terra mistica che era già stato annunciato in realtà qualche anno addietro di cui poi si erano perse le tracce e qualcuno è andato dalla capstone a chiedere proprio durante la fiera di essere e gli han detto sì ma age of innovation che fine ha fatto proprio perché era già qualche anno fa che si che era stato fatto l'annuncio di questo terra mistica sotto steroidi l'hanno chiamato che doveva uscire in realtà già pre pandemia poi si è perso non se ne è più sentito parlare e hanno confermato la previsione di uscita nel 2023 che cosa andrà ad introdurre questo terra mistica age of innovation boh non si sa quello che sembrerebbe anche qua da alcuni rumor da alcune interviste da alcune parole ricevute dagli addetti ai lavori che sia una versione di una nuova un nuovo stand alone di terra mistica quindi non sarà un'espansione non sarà necessario avere terra mistica conoscere terra mistica per poter giocare a questo age of innovation che andrà in realtà a porsi come gioco nuovo che prenderà probabilmente delle cose da progetto gaia che era stato quest'altro spin off di terra mistica uscito un po' di anni fa ad alcuni era piaciuto più di terra mistica a me era piaciuto molto meno rispetto a terra mistica quando uscì progetto gaia ma chiaramente sono gusti personali ed non si discute probabilmente dicono che sarà più affine come esperienza di gioco a progetto gaia staremo a vedere fatto sta io non sapevo di questo annuncio non sapevo che l'avrebbero fatto sapevo dell'uscita di terra nova ma non di questo age of innovation che a quanto pare aspetteremo per il 2023 e ancora signore e signori nulla sul numero di giocatori no vega manco si sa niente del gioco quindi no è ancora troppo presto è ancora troppo presto per sapere qualcosa di age of innovation dovessi scommettere io direi 2-4 proprio così a caso totalmente a caso per adesso come vi dicevo sono soltanto rumor voce di corridoio persone che sono andate a rompere le scatole agli editori durante la fiera di Essen che hanno detto qualcosina ma chiaramente senza sbilanciarsi troppo va da sé che è un periodo comunque di grande periodo di grande incertezza sotto tanti aspetti e quindi abbiamo visto che comunque ci sono stati in questi ultimi due anni giochi che dovevano uscire nel 2020 che magari vedremo per l'appunto a Luca Comics and Games e non è detto neanche che arrivino ancora per tempo e quindi credo che anche tutto il mondo in questo caso sia un po' paese e anche la Capstone purtroppo non sappia più informazioni ma dicevamo dicevamo che abbiamo parlato di videogame di grandi brand di videogame ma quindi non solo Street Fighter non solo Elden Ring perché un gioco che anche questo ammetto di non averlo mai giocato ma perché probabilmente non quando usci ero già un po' troppo grande probabilmente credo non avevo più che altro tutto quel tempo da dedicarvi ma credo che questo sia un gioco che se l'avessi scoperto quando ero pischello e giocavo un sacco di videogame avrei probabilmente donato la mia vita intera a questo gioco sto parlando di Minecraft di cui già uscì anni fa un primo titolo di Minecraft e finalmente Ravensburger fa uscire due nuovi titoli entrambi collaborativi ambientati nell'universo di Minecraft chi conosce il vecchio gioco di Minecraft dice che è un gioco comunque valido e che sicuramente rende bene il tipo di ambientazione quindi staremo a vedere se riusciranno anche a fare questo Portal Dash e questo Heroes of the Village che sono due giochi collaborativi e il primo Portal Dash è un dungeon crawler noi ci troviamo all'interno di un dungeon l'ambientazione utilizza la stessa meccanica sono no no sono due collaborativi diversi il primo è per l'appunto un dungeon crawler noi dovremmo esplorare questo labirinto ci saranno dei nemici all'interno di questo labirinto dovremo estrarre i materiali con cui forgiarci le nostre armi per poi andare a combattere i cattivoni e superare i vari livelli che ci sono all'interno del gioco per sconfiggere uscire da questo dungeon potenziandoci fondamentalmente prima di riuscire a farlo e collaborando tutti assieme mentre Heroes of the Village è più un Tower Defense ovvero un gioco nel quale noi dovremmo difendere il nostro villaggio da un'avanzata costante di nemici che ci verranno contro per farlo anche qui dovremmo prima andare nelle varie zone del nostro villaggio non ho capito bene se con un piazzamento lavoratorio con quale meccanica per anche qua recuperare delle risorse con le quali armarci potenziarci migliorare il nostro villaggio e difenderci dagli attacchi incessanti di questi minion di questi nemici che ci verranno contro ovviamente io ora vi ho proprio estratto il succo solamente le meccaniche di gioco perché come vi dicevo non conosco ahimè l'universo di Minecraft ma entrambi i giochi forse un sistema di risorse di quello base potrebbe anche essere Alex questo non non lo so non ho trovato questa questa informazione online quello che è certo è che comunque entrambi i giochi hanno un ambientazione un dei collegamenti diciamo con il videogioco a livello di ambientazione proprio di quale nemico ti ha messo dentro il dungeon come si chiamano quelli che ti arrivano contro che derivano chiaramente dall'universo Minecraft e può essere sicuramente un ottimo passaggio un ottimo viatico un ponte per andare a collegare magari prendere qualche appassionato qualche ragazzino qualche ragazzo magari più giovane o anche non più giovane comunque qualche appassionato dell'universo Minecraft e trasporgli quel tipo di sensazione quel tipo di avventura anche all'interno di un di un gioco da tavolo sono sempre esperimenti interessanti ai quali guardare vi ricordo venerdì keep up proprio perché parleremo un po' partendo come vi ricordo ancora una volta da il signore degli anelli parleremo magari anche di questo diciamo ci arriveremo questi passaggi a questi ibridi quando si va a prendere comunque una licenza nota forte conosciuta a molti e la si porta in un qualcos'altro insomma quando si prende tolkien i libri le appendici in realtà del signore degli anelli e del sin mariglio ne le si va a trasporre in una serie televisiva così come anche quando si va a prendere magari un film di culto o un videogioco e lo si va a trasporre all'interno di un gioco da tavolo ecco che non sempre tutti sono contenti ma venerdì vi ricordo vi aspetto alle 13 con keep up per parlarne buongiorno cavalier zito buongiorno buongiornissimo e buongiornext comunque andiamo avanti perché sempre tema videogiochi me l'avete segnalato voi me l'ha segnalato uno dei nostri fantastici mod non so se ci sei ancora mi ha segnalato albi va che mi è arrivata la notifica che esiste sto gioco qua call of duty che è di party game allora io call of duty ci ho giocato no ci ho giocato ero già sposato con vale quindi negli ultimi 15 anni ci ho giocato comunque io mi ricordo questo gioco vabbè lì era ambientato nella seconda guerra mondiale poi so che ne hanno fatti uscire anche lì una svalangata con vari diversi tipi di ambientazione però io mi ricordo questo sparatutto in prima persona dove vado mi nascondo faccio sparo a vedere questa cover ho detto ma questo a me sembra Fortnite con la gente che si tuffa giù e ho giocato a Fortnite sono sempre stato scarsissimo ma ci ho giocato anni fa a Fortnite quando usci mi divertivo anche e poi da lì ho capito ho dedotto che anche in call of duty per probabilmente riuscire a stare dietro al grandissimo successo anche di Fortnite avranno quanto pare fatto questa modalità che si chiamerà KD party o qualcosa del genere molto più simile molto più battle royale come come Fortnite fondamentalmente credo eh credo che che possa essere andato così mi è spuntata una pubblicità di call of duty proprio poco fa e vedi vedi è tutto quanto collegato gioco dai 17 anni in su e che quindi mi fa pensare ok ci sarà una forte tematica a livello di battaglie sparatorie lancerò granate farò saltare in aria le persone ciao Fede nessun problema benvenuto grazie mille per per essere qua no lanciandoti decidi dove piazzarti sulla mappa ah ok grazie Enio ok si mi immaginavo più una roba alla alla Fortnite quindi si scelgo dove dove atterrare ma party game il nome del gioco o il tipo di gioco entrambe le cose Fede entrambe le cose perché cattura i tuoi nemici sei pronto a lanciarti da 3 a 5 giocatori della wilder vi faccio solo notare questo perché la prima volta che mi è cascato l'occhio sull'editore sulla cover e nel nome dell'editore nell'angolo a me ha ricordato tantissimo la witch kids se avete un gioco della witch kids in casa per esempio questo a me sembra un sacco vabbè ora qua è scritto piccolino cioè è molto simile è molto simile super skill pinball questo qua non è mai arrivato in Italia questo gioco vedete ora non lo mette bene a fuoco vedete che è molto simile il font utilizzato esatto dai 17 anni in su e infatti io proprio per quello mi sono immaginato un gioco si è come Fortnite ti lanci dall'aero che passa sulla mappa perfetto ti chiedi alla finestra no però infatti ho detto sarà per la tematica comunque c'è un gioco in cui ci dobbiamo sparare l'uno contro l'altro l'avranno messo per quello in realtà il gioco prevede però appunto varie carte ok varie load e quei soprattutto quei tassellini sotto di cui come vedete ce n'è anche di bianchi perché sono proprio inclusi nella scatola quelli bianchi questi tassellini sono delle cose che tu riceverai otterrai muovendoti sulla mappa e darai agli altri giocatori queste sono delle prove che gli altri giocatori devono fare e se scelgono di non fare perderanno dei segnalini che hanno davanti a sé che sono tipo le loro vite e queste prove cosa ti chiederanno di fare? cose simpaticissime come fatti scrivere sul braccio da un altro giocatore ma cos'è? ma perché? ah e l'altro che si distrae dice oh no mio dio è praticamente voodoo ok è una specie di voodoo ecco bravo fede esatto e voodoo se gli altri giocatori scelgono di non fare quella cosa e vi ricordo che ci sono dei marker bianchi su cui tu puoi scrivere quello che vuoi e quindi potrebbe anche essere boh fai la cacca per terra cioè qualsiasi cosa scusate non lo so mi ha lasciato un po' interdetto ok mi ha lasciato un po' interdetto perché pensavo di trovarmi davanti a un gioco a tema Call of Duty con quel 17 più ma in realtà Call of Duty non c'entra assolutamente nulla se non nel fatto che tu passando in questi posti prenderai questi aspetta ho un'immagine della mappa ok noi praticamente atterriamo su una delle caselle gialle con il nostro marker cubettoso ne facciamo cadere tre e lo so che è molto tre vi chiedo scusa vi chiedo scusa ne facciamo atterrare tre dopodiché abbiamo lanciando i tre dadi che avranno vari valori li assegniamo a ciascuno dei nostri cubetti e muoviamo quei cubetti di quel valore quando passiamo sulle zone blu raccattiamo sulle zone verdi raccattiamo quel gettone che poi se muovendoci saltiamo un altro giocatore ok è come se fosse una mega mappa sulla cui i nostri cubetti si muovono si muovono se muovendo mi riesco a saltare un altro giocatore gli posso dare uno dei gettoni che avevo raccolto in precedenza è venuto a spegnere di fretta ancora su middle ciao Sasha mi ricordate che sei riuscito a tornare questo gioco sta call of duty con la panna star a carbonare esatto esatto in questo caso diciamo che non vedo nessun tipo di correlazione tra l'ambientazione e il gioco in sé poteva essere veramente qualsiasi l'ambientazione le carte i loadout hanno sì sui nomi del mitragliatore la pistola il fucile da cecchino ma fine cioè sono azioni tipo no rifiuta il gettone no prendi il gettone e daglielo a qualcun altro fine questa mappa è la gloriosa Verdansk del primo warzone grazie mille Dancefloor della dell'info non lo so a me è sembrato tanto un po' non lo so allora non voglio fare quello che dice che quando c'è la licenza dietro il gioco è brutto perché non è vero e anzi venerdì ne parliamo ok sui totti a qui copro l'aria eh sì se non parlo di cacca non mi piace no la non voglio cioè anche perché non è una cosa che penso esistono un sacco di giochi su licenza ma basti vedere Disney Villanus di cui abbiamo parlato prima lo cioè secondo me sono ben fatti sfruttano bene la licenza che hanno in questo caso io di per carità non ho mai giocato questa versione di Call of Duty eh mai quindi non so non so cioè magari Dancefloor tu che ci hai giocato e lo conosci e riconosci la mappa mi puoi dire se ha un senso però cioè fammi anche una roba più semplice dove muovo le mie pedine se salto sopra l'altra pedina allora giocherò la carta del tipo di attacco che butto giù l'altro che poi si ritufferà e rientrerà in gioco il turno dopo e va bene ed è comunque già mi dai più l'idea di Call of Duty cos'è? è un gioco dove io sono lì che giro armato e sparo addosso gli altri qua non sto sparando addosso gli altri qua sto obbligando gli altri a fare delle cose che va bene eh non dico che sia brutto il gioco in sé non dico che sia brutta la tematica in sé dico che l'unione delle due cose per me cozza il gioco poteva funzionare benissimo fosse stato i bambini che giocano al parco e si fanno i dispetti e allora mi sta benissimo e ci sta il fatto che ah scrivi pasticcia l'altro col pennarello e fagli fare il giro con le braghe calate attorno al tavolo e che so io ok ci sta come cioè trovo la tipologia di di cosa buffa più attinente alla tematica del gioco ma un gioco come tematica la guerra fare queste robe qua lo trovo poco attinente ecco trovo molto scollate il tema del gioco e quello che il gioco poi ti porta a fare nel corso della partita la mappa è un fanservice puro e basta il gioco in sé ha meccaniche fighe non ha niente a che vedere con la tematica di call of duty esatto cod cos'è un gioco bellissimo era e potevano chiamarlo il gioco del bully ma potevano chiamarlo come volevano fede e però boh non lo so cioè mi sembra sprecato da un lato poter fare un gioco su call of duty e non sfruttare un un che che possa in qualche modo richiamare ricollegarsi all'universo di call of duty ok è chiaro che anche minecraft ritorniamo un attimo è chiaro che anche minecraft poteva avere su un'altra ambientazione è chiaro che un dungeon crawler poteva avere o il tower defense ce ne sono infiniti e potevano avere qualsiasi tipo di ambientazione ma hanno comunque cercato di legare al fatto che è un dungeon crawler sì c'è il nemico di minecraft sì devo andare a spaccare i muri per prendermi le pietre per farmi e trovare i diamanti per farmi la mia spada di diamanti e ammazzare i mustrilli sì ed è una roba che in minecraft comunque fai il gioco poi sarà bello sarà brutto non lo sappiamo però almeno è tematico è affine alla all'ambientazione che ti porta ok idem in tower defense ok è molto affine comunque all'ambientazione che ti porta in questo caso qua vedere questa vedere questa copertina che mi richiama comunque al mondo di quel tipo di call of duty ok più affine a un fornite più affine a quel che vuoi ok e siamo la squadra o i tre membri della squadra da gestire da far muovere sulla mappa ok ma non per far fare le penitenze agli altri non lo so eeeh poteva avere cioè voodoo voodoo che è un altro gioco dove devo far fare delle penitenze agli altri funziona perché siamo gli stregoni che si stanno lanciando contro le maledizioni e ci troviamo a dover fare delle cose buffe come tipologia di gioco siamo lì è sicuramente divertente questo gioco è un party deve essere cacciarone mi sta bene ok mi piace come idea di un party cacciarone ma mi devi dare un'altra tematica non quella che siamo dei soldati in guerra che si stanno sparando l'uno contro l'altro neanche se è più fanny alla fornite perché io in fornite non mi diverto a dire haha ti ho fatto la burla mi diverto perché ho delle doti da cecchino fammelo un gioco di schicchere piuttosto e dove allora si davvero ho la mira nello spararti nel let shottarti one shot one kill non lo so a me sembra proprio appassionati di call of duty ma non di giochi da tavolo che vogliono un gioco semplici alla cocco ridò e che vogliono giocare con una birra in mano senza dubbio marco e secondo me io non sto dicendo che è brutto perché non è un gioco pesante lungi da me lo sapete che io sono contrario a questo genere di ragionamenti assolutamente no è un gioco per i fan di call of duty senza ombra di dubbio ma un fan di call of duty non dico che debba giocare a memoir 44 versione call of duty dove deve imparare il sistema borg che per quanto semplice comunque è sicuramente un ostacolo grande per una persona che non ha mai giocato niente ma io penso che appassionato di un gioco in cui devo sparare alla gente mi metti il gioco da tavolo lo apro e non devo sparare alla gente non mi piace cioè mi dà quell'idea lì è come se mi prendo il gioco di minecraft e però non devo costruirmi le armi gli oggetti e non devo spaccare i cubetti di muro per ottenere le risorse in minecraft faccio quello lì voglio fare quello che poi non sia fatto nella stessa modalità mi sta bene che lo farò lanciando dei dadi giocando delle carte muovendo delle pedine ok però mi devi dare anche solo banalmente la possibilità di dire arrivo lì sono a distanza tot lancio un dado se faccio 4 o più lo colpisco se non ho è semplice è tutto quello che vuoi è divertente è un party game è una roba fatta per ridere con la birra in mano con quello che si vuole io sono il primo a giocare con la birra in mano sempre però questo mi sembra proprio troppo lontano dal tipo di ambientazione non so voi cioè però volevo discuterne un po' voodoo che si chiama Dungeons & Dragons per capire adesso si è il tema di recente ho comprato il gioco da tavola di Fallout Shelter perché amavo il gioco online chissà se sarà fine non l'ho mai provato non l'ho mai provato il gioco di Fallout non è sfruttare malissimo un brand internazionale molto malato e conosciuto secondo me è proprio solo una questione di cioè poi magari ci sbagliamo e sarà un gioco che piacerà un casino e che pur non essendo un appassionato di videogame ok pur non conoscendo questo cioè ci ho giocato ma proprio al 1 o al 2 al massimo 10 anni fa e mi divertivo anche per carità però è come se mi facessi il gioco da tavolo di Monkey Island e poi non ho le scelte da dover fare e non ho un cioè non ho un bivio non ho la possibilità di scegliere se parlare rispondergli a o rispondergli a B ma devo boh fare un piazzamento lavoratori c'è troppo scollatura tra l'ambientazione e e la meccanica secondo me comunque boh vabbè niente volevo volevo parlarne con voi adesso vi recupero un attimo la chat un gioco che non devo sparare alla gente e non mi piace ed ecco che bannon c'è il termine gioco Fabio e chi gioca a Fortnite su Twitch scusami come fanno dovrebbero bannare l'80% degli streamer di Twitch allora io la penso come te grazie Landers non hai la gara di insulti esatto nel gioco esatto mi fai il gioco di Monkey Island e non mi metti il duello di insulti non va bene attira un pubblico che non è la fanbase di questo gioco forse l'hanno fatto per attirare gente strana attirata dal nome si avvicina ma sicuramente avranno avuto le loro buone ragioni per farlo per carità io non sono nessuno per dire che hanno sbagliato ci mancherebbe altro però boh sarà che quando appunto Felice mi ha mandato il link di guarda che è uscito il gioco di Call of Duty ho trovato sta notizia mi sono immaginato una roba e poi andando a vedere le regole del gioco ne ho trovata tutta un'altra tutto lì poi che sia divertente io non lo metto in dubbio ci mancherebbe altro che funzioni non lo metto in dubbio però boh chi lo sa chi lo sa e poi arriviamo all'ultima notizia signore e signori perché hanno fatto una roba quelli della Culmini or not che è ho da un lato in mei solite paracula ma dall'altro lato è strepitosa ed eccezionale ok come si è fatto il gioco del calcio e non si parla di calcio esatto Alex grande giustissimo esatto Eddie Eddie eccolo qua perché Eddie la mascotte degli Iron Maiden arriva in tre diversi pack più una promo esclusiva ovvero hanno rilasciato queste miniature tutte diverse ognuna con una sua particolarità ci sarà Eddie Farone Egiziano Eddie Samurai Eddie Zombie Eddie Morte Eddie Cyborg ok e non finisce qua perché questo è solo uno dei pack ma avremo ancora Eddie Cowboy Western Eddie Rinchiuso nel Manicomio avremo Eddie Killer Eddie Mummia Eddie Predator Eddie Bassista perché ci vuole Eddie Bassista un Eddie per ogni album degli Iron Maiden esatto e quindi ne avremo veramente di ogni e avremo anche l'Eddie Classico e ognuna di queste miniature arriva con tutti quanti gli elementi necessari per usare quella miniatura all'interno di uno qualsiasi dei giochi di grande successo della Cool Mini Or Not a partire ovviamente dai vari zombie sai da dove li potrete usare come abominio o come survivor come preferite voi per poterci giocare io che invader come faccio a vivere senza Eddie versione T1000 esatto esatto Eddie Bassista è la caricatura del Bassista degli Iron Maiden ovviamente e dai esatto e quindi li potrete usare in Zombicide li potrete usare in Zombicide Black Plug in Zombicide Space Invader in Cthulhu May Die in Massive Darkness in Hank volendo vi potete usare quello Faraone o quello Mumia in Hank se vi va e ci sono tutti quanti all'interno appunto di questi tre pack ci sono tutti quanti gli elementi oltre che le miniature anche le carte per poterli utilizzare dove volete quindi potete farvi appunto la vostra partita a Tulu Dead May Die con un Eddie un Eddie Samurai così a gancio e è chiaramente una cosa fatta per super appassionati è un prodotto più da collezione che altro ma è stata una delle notizie di questa settimana che più mi ha colpito è effettivamente andare a guardare le miniature nel dettaglio hanno sono veramente fatte bene veramente veramente belle e e ci stanno ci stanno un sacco come vedete c'è anche scritto sulla scatola 19 carte perché a seconda dei vari giochi in cui li si va ad utilizzare è geniale è geniale sicuramente sì allora dai tempi appunto del primo Zombicide della cool mini or not aveva fatto di questo tipo di uscite personaggi unici magari avevano fatto tutte le collection con i personaggi disegnati da illustratori singolarmente ciascuna avevano fatto uscire serie di personaggi iconici da poter utilizzare come eroi all'interno di Zombicide sin da quelli della prima edizione e ogni tot ne facevano ne facevano uscire qualcuna e quel che è certo sì sicuramente sono costose sicuramente tutto vanno presi per quello che sono ovvero oggetti da collezione oggetti da collezione che proprio perché da collezione hanno chiaramente un pubblico particolare di appassionatissimi di quella tipologia di gioco e allo stesso tempo appassionatissimi anche degli Iron Maiden e che quindi gli fa piacere andare a andare a giocare con il richiamo appunto di Eddie la mascotte solo per i fan del gruppo assolutamente fan del gruppo e dedico i giochi perché io devo essere super fan di Zombicide per volere della roba in più di Zombicide di Ktul di Maidai di Massive Darkness di Hank o quel che è per volere delle cose aggiuntive per la mania di completismo e in più devo anche essere fan degli Iron Maiden cioè ci va già proprio una combinazione non da poco però se l'hanno fatto è perché sicuramente si sono fatti i loro calcoli e sapranno che comunque anche questa qua andrà bene per esempio quello western lo trovo veramente molto figo e sono tutte quante proprio belle proprio fatte bene il cyborg ditemi anche in chat tra l'altro quale vi piace di più quale vi incuriosisce di più perché sono sono super 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 curioso super super curioso e signore e signori noi con questa news quindi giungiamo verso la fine ma voi non fuggite che mi è data attraverso la saliva e su DungeonDice.it ci sono giochi da tavolo di ruolo e accessori scusate invece c'era anche quello con i Thundercats sì sì assolutamente intanto io sono sto guardando il bassista mi fa impazzire intanto resto in attesa che mi diciate quali sono quelli che vi sono piaciuti di più scusate un attimo andate attraverso questa gocciolina di saliva e che mi fa mi ha fatto letteralmente impazzire il ninja di Celenders è molto figa anche ma figurati Tania grazie mille a voi ci mancherebbe dai dai voglio ancora leggere qualcuna delle vostre i samurai e il T1000 sono sono fighissime sì a me piace molto vabbè io poi sono a me piace un sacco l'ambientazione western ancora mi piace sempre sempre un sacco tra l'altro ho visto che uscirà una nuova serie su sky di django e sono sono curioso anche di di quella bassista forever è Michele d'altronde essendo musicista non può non non può non non essere non essere appassionato mi son perso il T1000 dice Fede il faraone allora aspetta torniamo a fargliele vedere un attimo Fede visto che se l'è persa poi ci salutiamo ti faccio rivedere il T1000 ah è questo qua è già proprio qua in questa immagine è quello cyborg qua dietro tra l'altro poi se ve le cercate online di ogni miniatura la vedete bella grossa che io ora qua non sono stato mettervele tutte quante singole ma ci sono da locale pomeriggio faccio una review veloce grazie Alex che farei un rewatch la review fai la recensione scusa sono un pignolino se volete vi dico l'album grazie Alex siamo assolutamente curiosissimi grazie mille io come tutta la musica conosco conosco poco di tutta la musica che non sia italiana ma ma ci sta ma ci sta ok quindi Fede visto che le hai riviste dai le facciamo ripassare tutte quante un attimo così le potete riammirare tutte quante questo qua è il pack il pack numero 2 il pack numero 3 che ha soltanto queste due miniature e poi solo prendendole online sul sito eccetera eccetera c'è anche l'eddy classico proprio quello l'original eddy come recita anche la carta che lo potete prendere come come promo diciamo soltanto col preordine soltanto adesso eccetera eccetera ma ci sta ci sta assolutamente se siete fan eccoci qua dungeonlice.it giochi da tavolo giochi di ruolo e accessori eccomi io vi ricordo quindi i prossimi appuntamenti di dungeon dice tv ovvero tutti i giorni dal 13 fino alle 14 eccetera in tada lunedì al venerdì per tenervi compagnia domani ci sarà vale con il suo board and art domani si tornerà a parlare di animali o meglio di un animale in particolare e lo fa quando io non ci sono e qualcuno potrebbe capire di che cosa si sta parlando mercoledì Silvia ci accompagnerà nel mondo delle classifiche dei giochi più venduti della settimana giochi da tavolo giochi di ruolo è libro game giovedì ci sarà Giulia con il suo lo sapevi che a parlarci di città in questo giovedì con la sua rubrica di consigli e curiosità sul mondo dei giochi da tavolo e venerdì ci rivedremo con il sottoscritto per una puntata di keep up in cui andremo a parlare del signore degli anelli gli anelli del potere e di tutto ciò che ha creato il subbuglio che ha creato nella community di appassionati e non solo e fagiani fagiani sempre grazie Sasha grazie a tutti lenders prima di lunedì prossimo mi raccomando vi aspetto venerdì con keep up non andate via perché facciamo ancora un raidino e vediamo chi c'è live vediamo se c'è si c'è carrier in quindi andiamola a salutare che sta facendo arte sul suo canale io come sempre vi ringrazio ci vediamo prestissimo e continuate a seguire Dungeon Dice TV da lunedì al venerdì alle 13 ciao a tutti grazie mille della compagnia e sta per partire il raid quindi non andate via ciao ciao a tutti